Per oggi vi suggerisco una pasta molto particolare. Vediamo insieme come preparare. In una padella mettiamo olio extravergine e cipolla lunga. Facciamo soffriggere il tutto. Aggiungiamo gamberetti. Io utilizzo quelli congelati, a casa avevo questi. Facciamo insaporire la preparazione e successivamente sfumare con il vino bianco. Mi raccomando non esagerate, ne basta una spruzzata. Facciamo evaporare il tutto e aggiustare se occorre di sale. Nel frattempo portiamo a bollore la pasta e qui aggiungiamo un po' di pepe nero, un omaggio tipo gorgonzola, un pesto di pistacchio, acqua di cottura. Mescolare il tutto. Tirrete una cremina. Mescolare la pasta direttamente nel condimento. Per piacere potete aggiungere anche un po' di parmigiano. Sinceramente io non ne ho messo. Semplicemente saltare in padella e completare la preparazione con della granella di pistacchio che ci sposa benissimo. Il mio gusto è super buona. Provatela e fatemi sapere.